Sarebbe interessato, siamo sicuri, siamo sicuri che sarebbe un buon amico, sicuro e affidato, se ci prendessero un caffè con lui, buone compensazioni, ci ha comprato una casetta nuova. Sì, dove? Ho sicuro che ci vivrebbe bene con lui, se prende un caffè, dopo il pranzo si mangia un caffè, ammante del calore della cucina, si lavora bene come casa lì, c'è anche il bantofone, ci può mettere nel bantofone, ci ha comprato molte cose per lei. No, 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 no. a a a a a a per il tempo, per il tempo. Per il tempo.